Credo che facciamo uno del calcio più bello per la categoria, palla a terra, c'è anche il campo di Vitulazio che ci permette di fare questo e poi niente, due anni, sono ritornato due anni fa ha sconso campionato bellissimo quest'anno altrettanto e mi fa piacere queste soddisfazioni perché due anni fa sono stato, diciamo, come dire, protagonista del play-out proprio contro il Vitulazio con la maglia del Teano che poi sancì la retrocessione del Vitulazio e poi invece questi due anni in cui ci siamo tolti qualche soddisfazione con la maglia rosa-nero del Vitulazio quindi sono contento Un aneddolo di quella partita, Veto? Un aneddolo di quella partita Casa Cuccherin dopo quello spareggio No, fu una settimana Casa Cuccherin dopo quello spareggio La sera della sconfitta del Vitulazio Qualcuno pangeva, qualcuno... No, io fu il primo che pangevo No, veramente, fu una settimana particolare perché tra l'altro Mister all'epoca Tabacchino non c'era più e fu bastano a fare il mister quell'ultima settimana